Leggo dall'Ansa una notizia. Mamma e bimba muoiono in sala parto all'ospedale Sant'Anna di Torino. Padre si scaglia contro i medici, intervengono i carabinieri. Il ministro della Salute manderà nei prossimi giorni l'ispettoria Torino per indagare. Sul caso della donna deceduta durante il parto all'ospedale Sant'Anna con la sua bambina, lo affermano fonti del ministero, secondo cui l'indagine servirà a chiarire la dinamica dei fatti. L'esame sarà seguito domani, reato ipotizzato al momento contro i gnoti, è di omicidio colposo. Voglio soltanto sapere che cosa è successo a mia figlia e quanto racconta il padre di Angela, la donna morta all'ospedale di Torino. Aveva un dolore all'addome, pensavo fosse normale per il parto, che era previsto per oggi. Poi i medici ci hanno detto, prima a me e poi al suo compagno, di andare a casa. Da allora ho solo saputo che è morta con la bambina e nessuno mi ha dato uno straccio di spiegazione. È qualcosa di improvviso, non c'è nulla che potesse pronunciare un esito tragico. Così la direttrice del reparto di ginecologia e austenica dell'ospedale Sant'Anna. Fino al momento del malore, spiega il decorso clinico, era stato assolutamente anormale, non c'era nulla che potesse pronunciare un esito così tragico. Aspettiamo anche noi l'autopsia per capire che cosa è successo. La direttrice precisa che in sala parto rappresenta un anestesista che ha tentato in ogni modo di defibrillare e di animare la paziente, sfortunatamente senza risultati positivi. La cosa che mi fa riflettere leggendo questa notizia è che non c'è più posto per l'imprevedibile, per l'imprevisto, per il caso, per il fatto. Come dire, tutto deve essere razionalizzato, spiegato, ma anche in qualche modo previsto. E quindi l'intervento della fatalità, del caso, del destino, della sorte, cosa che in tutte le epoche, insomma, è stata una presenza sostanziale nella vita dell'uomo. La vita dell'uomo era soggetta al caso, alla fortuna, al destino, alla sorte, all'imprevisto. Ecco, l'imprevisto non è più possibile, non è più una dimensione di una società tecnologica. Tutto deve essere in qualche modo spiegato, spiegabile, ma soprattutto anche prevedibile e ancora di più rimediabile. E allora il fatto di non poter rimediare diventa una colpa e quindi diventa un qualcosa di cui rispondere in chiave personale, di cui i medici in qualche modo sono colpevolizzati. L'aggressione del padre, prima ancora di sapere, prima ancora che si possa sapere, ai medici che non hanno salvato, e poi, insomma, l'accusa nei confronti dei medici, insomma, di omicidio colposo per un fatto di cui ancora non si sa, che per il momento è attribuibile al caso, non si sa ancora di cosa è morto, cosa ha cambiato di punto in bianco la situazione di una gravidanza che, mi pare, da quanto si legge, era destinata ad avere un decorso normale. Quello che emerge è l'aspettativa che si ha nei confronti della medicina, no? Tutto deve andare secondo le regole, insomma, no? Tutto deve essere in qualche modo previsto, razionalizzato, compreso e quindi a tutto ci deve essere un rimedio. La sorte, la fatalità. L'evento, imprevisto, imprevedibile, impossibile, da un arresto cardiaco improvviso, qualcosa che turbi questa scansione logica dei fatti, non rientra più nel modo di percepire la vita. Quindi l'imprevisto, la sorte, diciamo così, sono emarginati dalla nostra percezione del mondo, dalla nostra visione del mondo. La medicina ha creato questa aspettativa e adesso la medicina in qualche modo paga, sempre individualmente, no? Come dire, quando succedono queste cose il responsabile è sempre localizzato, no? Non è mai una responsabilità ideologica di aver creato un'aspettativa che è impossibile da realizzare, da soddisfare. Ma c'è sempre qualcuno che in un certo momento sbaglia e quindi deve pagare per questo errore, anche di fronte al caso, anche di fronte all'evento imprevedibile oppure magari, anche se imprevedibile o comprensibile, irrimediabile. Perché non a tutto c'è rimedio. Ma questa idea della medicina totipotente, capace di rimediare a tutto, soprattutto, diciamo, in certe fasi della vita, nell'età giovanile, insomma, la morte di un bambino era un evento normale. Si facevano tanti figli, ma tanti ne morivano in epoche passate. Adesso la morte di un bambino per cause naturali non è più un fatto accettabile, comprensibile. È una cosa che comunque deve prevedere una colpa, una responsabilità, non più un evento di natura. Ma, nonostante tutto, noi non siamo cambiati così tanto da pensare che gli eventi naturali non possono più condizionare il destino umano e che l'uomo a tutto possa aver trovato un rimedio. La medicina però ha fatto del suo meglio per creare questa illusione, non so, di chi sia completamente questa responsabilità, se della medicina, della tecnologia, di quello che si è delegato alla medicina, dell'immagine che si è creata rispetto al potere dell'uomo sulla malattia. Ma sta di fatto che la natura ogni tanto si riprende, si riprende il suo spazio e ci fa capire che ancora esiste, esiste con i suoi imprevisti, le sue leggi, tutto quello che sfugge e che sfuggirà sempre al dominio e al controllo dell'uomo, o perlomeno sul quale l'uomo continuerà, nonostante tutto, ad avere un potere limitato. Un saluto.